Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Pover sono il triangolo classico della storia della televisione Anche se i rapporti ormai non sono più così incrinati come un tempo, pare ci siano state delle precisi disposizioni Romina Pover e Loredana Lecciso sono sicuramente due delle donne dello spettacolo più seguite del momento Secondo Libero Quotidiano però Buon Sangue ancora non scorrerebbe tra i due Entrambi ex mogli del noto cantante Albano Carrisi, ed entrambi madri di alcuni dei suoi figli, tra le due non corre Buon Sangue Nonostante i tentativi di smentita, e gli sforzi di Albano per la riappacificazione, è palese che il rapporto tra le due non sia certo tra i più idilliaci, per usare un eufemismo Le presunte pretese di Romina Pover ex moglie di Albano Carrisi. Romina Pover è una delle donne dello spettacolo più amate e seguite in Italia Con Albano, Romina ha condiviso oltre vent'anni di matrimonio, e il loro celebre duetto chiusi virgolette felicità è ormai un inno, che ha segnato più di una generazione nel nostro paese Dopo il divorzio con Romina Pover, Albano Carrisi si è risposato con Loredana Lecciso, altro volto noto della nostra televisione, da cui ha avuto anche dei figli Sebbene, dopo il divorzio anche con Loredana Lecciso, Albano si è rimasto in ottimi rapporti con entrambe, la stessa cosa non si può dire del rapporto del rapporto tra le due ex mogli del cantante E' noto infatti che tra Romina Pover e Loredana Lecciso ci siano state alcune diatribe, che hanno portato ad un inasprimento dei rapporti tra le due Che tra le due Showgirl non corra buon sangue è confermato anche dal settimanale SPI Secondo la rivista Romina Power, ospite d'eccezione nello Show di Albano prossimamente in onda su Canale 5, avrebbe posto il suo veto alla presenza della Lecciso nello stesso Show Addirittura, stando a quanto affermato da SPI, la povera avrebbe preteso che l'assenza della Lecciso nello Show fosse inclusa, nero su bianco, nel suo contratto Il ruolo delle figlie di Albano nello Show.Il grande spettacolo di Albano Carrisi, presto in onda su Canale 5, è attesissimo da tutti i telespettatori fan del cantante e della coppia Carrisi, Power Non sono pochi infatti i nostalgici che sperano di rivedere i due insieme nella vita oltre che sui palchi di tutto il mondo Oltre a Romina Power Albano ha deciso di farsi affiancare nello Show dalla figlia Christelle Carrisi Sembra che sia stata proprio Romina povera a spingere, affinché il ruolo fosse affidato alla figlia, originariamente infatti Albano sarebbe dovuto essere stato accompagnato sul palco dalla spagnola Rocio Munoz Morales, moglie di Raúl Bova Oltre a Cristelle anche Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso, reciterà con il padre nello Show